Ciao a tutti, io sono Bikurus e benvenuti in questo nuovo video. Questa oggi ragazzi, prima di iniziare col video stesso e mostrarvi tutti i gadget che ho in servo per voi questa volta, volevo invitarvi a provare gratuitamente per i primi 30 giorni Amazon Prime Video. Perché non sapesse, Amazon Prime Video non è altro che un servizio offerto da Amazon stesso che permette di vedere alcuni dei film più noti e alcuni delle serie tv più interessanti in una maniera del tutto gratuita per i primi 30 giorni. Quindi in descrizione vi lascerò sia il link ad Amazon Prime Video, se volete provarlo, e inoltre troverete anche tutti i link dai gadget che vi mostrerò tra pochissimo. Detto ciò, iniziamo subito! I computer sono molto afflitti dal caldo, in particolare i laptop. Il suo riscaldamento causa l'usura dei suoi componenti e porta a perdite di prestazioni e fastidiosi crash. Però Klim è un gadget economico che risolve tutti questi problemi. Si tratta di un dispositivo che funge da superventola, estrae l'aria calda dal tuo laptop e crea un raffreddamento rapido ed efficiente. È il più potente dispositivo di raffreddamento sul mercato. Da usare è semplice. Grazie ad una manopola saremo noi a settare la velocità di rotazione. Comunque ha una struttura metallica, non di plastica. Ed è compatibile con qualsiasi laptop, comprese da aree laterali o posteriori. Quindi bisogna ammettere che è un ottimo dispositivo per chi lavora molto col PC o per chi lo usa per giocarci. Sono sempre di più le persone che acquistano delle prese intelligenti. Una fra le più consigliate, anche per il prezzo non troppo elevato, è questa qui. Ma di cosa si tratta? Si tratta di una presa che permette di essere attivata o disattivata da remoto, sfruttando il nostro smartphone. Funziona anche con la connessione dati del telefono. È possibile interagire anche tramite un tasto fisico, senza passare dall'applicazione. I scenari di utilizzo sono praticamente infiniti, e non solo potrete accendere luci difficili da raggiungere, ma anche impostare orari e giorni di accensione e spegnimento di determinati apparecchi. Inoltre, con Amazon Echo, è possibile controllare la presa anche con la voce. Come dico sempre, l'igiene della casa è fondamentale, soprattutto l'igiene del bagno. Ormai tutti noi abbiamo in casa il classico scopino, che però gocciola ogni volta che viene tirato fuori dall'apposito alloggiamento oppure dal water stesso, il che è abbastanza snervante. Questo scopino da bagno però è rivoluzionario. Infatti, grazie ai suoi dentini super flessibili, sarete in grado di raggiungere anche i punti più difficili. Poi, una volta ripulito il tutto, non lascerà alcun residuo di bagnato. Quindi super igienico e anche super pratico. Se anche voi andate spesso in bici o in moto e avete questo problema del dove appoggiare il telefono senza farlo cadere, allora forse potrebbe interessarvi questo gadget. Si tratta di un supporto universale per smartphone. È molto facile da montare. E una volta stretto il cinturino, il telefono rimarrà ben saldo al passeggino o alla vostra bici. Se ci pensate, è anche abbastanza pratico di notte, dato che ci permetterà di usare lo smartphone come torcia. Se durante un tragitto in montagna, qualcuno dovesse chiamarvi, tranquilli. Sganciare il cinturino sarà molto facile. Piccola curiosità, funge anche da apri bottiglie. Se siete degli amanti del caffè e non potete farne meno neanche quando siete in campeggio, allora questo è il gadget per voi. Si tratta di una macchina per caffè portatile. Il mini espresso non è un termos, bensì un vero e proprio sistema che permette di fare l'espresso dovunque e in qualsiasi momento, senza elettricità o batterie. Il mini espresso funziona con qualsiasi tipo di caffè macinato. L'uso è molto semplice, anche se necessario disporre di acqua calda. In caso contrario, è possibile usare anche dell'acqua fredda. Però ovviamente anche l'espresso risulterà freddo e di conseguenza gli aromi saranno meno intensi. Come ultimo gadget abbiamo questo qui, che sinceramente mi ha colpito molto e quindi perché non condividerlo con tutti voi. Nokia Fit altro non è che un anello, con il quale si possono effettuare o ricevere chiamate. Si infila nel dito indice e consente di gestire la conversazione telefonica semplicemente avvicinando l'indice all'orecchio. Il device sarebbe inoltre in grado di segnalare le notifiche mediante una vibrazione. Insomma, molto semplice e futuristico.